allora il direttore generale mi aveva detto guarda che se vuoi tornare in rai per noi ottimo porte aperte solo che devi fare un passo indietro devi ripartire dal basso e io gli ho detto hai nessun problema poi ci si mette il sorello che mi dice ti do una mano ma se ti do una mano io ecco ma riniziare dal basso per ricostruire che c'è per ricostruire il glass di Viva Rai 2 me lo potete rispagnare anche se mi fa piacere lo porto qua sul trabattello hai capito Fiore? il glass di Viva Rai 2 costruito anche da Ciletti ciao 6 novembre ciao